Ho appena schiacciato il tasto per iniziare il video con la lingua perché chiaramente ho le mani bloccate Muhammad Ali, un grande pugile che faceva Chiaramente io sono molto più bravo, guardate qui Ma attenzione perché Muhammad Ali non era solamente un pugile, ma era anche altro Cos'altro era? Beh, lo scoprirai Non parleremo dei suoi pugni o di quante persone ha steso Anche perché, che ce ne fai da noi di quante persone ha steso Muhammad Ali? Come dice qualcuno, di Muhammad Ali non è importante capire quante persone ha steso Ma bensì quante persone ha alzato con le sue idee e le sue parole Aveva le idee molto chiare nonostante avesse la pelle molto scura I suoi pensieri sono molto interessanti e io oggi non ti parlerò dei suoi pensieri Ma te li farò vedere, te li farò vivere Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!